Casanova era innanzitutto un figlio del suo tempo, un uomo del Settecento, figlio naturale di un aristocratico per cui con un grosso senso di rivalsa, era un avventuriero, era una persona che ha girato per tutta Europa, per tutta la sua vita, ha visitato un centinaio di località diverse per oltre 200 volte. Se si fosse chiesto a lui chi era avrebbe risposto un letterato perché Casanova era un uomo di cultura e ha pubblicato in vita 43 opere che non sono proprio una banalità. Di questo e altro vi racconto nel libro che si intitola Casanova.